1500 delegati e tanti ospiti, tra leader sindacali ed esponenti della società civile, per l'Assemblea organizzata a Roma da sinistra italiana, articolo 1 MDP è possibile, per dare vita al nuovo soggetto politico di sinistra. Liberi e uguali, in nome della nuova formazione guidata dal Presidente del Senato fuoriuscito dal PD Pietro Grasso, il cui intervento ha chiuso l'evento. Giù in platea è big, Nichi Vendola, Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. E non dividiamo l'elettorato che voterebbe per il PD, noi raccogliamo un elettorato di sinistra o democratico che però non voterebbe mai per Renzi. Se a livello nazionale la posizione rispetto al PD è chiara, in Puglia il governatore Emiliano, per sinistra italiana MDP, adesso insieme nella nuova formazione, resta ancora sotto esame. Su alcuni temi in particolare, sanità ed acquedotto pugliese in cima alla lista. Noi vorremmo linearità dal Presidente Emiliano per condividere insieme a lui un'esperienza in cui la sinistra riesca a fare la sinistra. Purtroppo in questi mesi, in questi anni, questo non è stato possibile realizzarlo, non è certamente colpa nostra. Noi comunque giudicheremo Emiliano alla prova dei fatti.